Buonasera a tutti, diamo inizio a questa sessione di questa seconda giornata di questo importante convegno di studi dedicato all'Adriatico, la grande guerra, frontiere, memorie e orizzonti. Proprio in materia di memoria vorrei dare spazio a un fuori programma ma sempre piacevole con il professor Sabino De Nigris, ricercatore di questa fondazione, della fondazione di Vagno che organizza questo convegno, che farà questa sua breve relazione o semplicemente uno spunto di riflessione sull'esperienza di alcuni concittadini, i suoi concittadini turesi, nella grande guerra. Per sottolineare quello che è stato l'elemento sostanziale di questo conflitto, che è stato sì, conflitto di tecnologie, conflitto di grandi potenze, ma è stato soprattutto conflitto di uomini. Prego Sabino. Buonasera, ecco, io vi farò una stringatissima comunicazione su una comunicazione, si chiama, ha dato un nome provvisorio, segnare il passo turi e i turesi nella grande guerra. Praticamente noi parliamo sempre della grande guerra come un fatto epico che ha coinvolto si sente? No. Che ha coinvolto milioni di uomini, infatti pensiamo che l'Italia si è mobilito con circa 4 milioni di uomini, avendo poi 600.000 morti, 1 milione di feriti e una distruzione di paesi del Veneto e del Trentino e del Priori. Ora che cosa voglio apportare a questa discussione? Il sacrificio sia in termini di vita umane che di alimentazione che subirono le popolazioni. Turi era un paese che aveva una popolazione di 7.000 abitanti, aveva votato nel 1914 ed era stato un po' allontanato il notabilato dalla cosa pubblica con giovani più, con idee ribelli ma non di più per cambiare un po' l'area amministrativa Turi. Ecco il problema è questo, ci fu una lite, diciamo un confronto aspro tra il vecchio sindaco e il nuovo giovane di 26 anni, il ragionier Raffaele Orlandi che presi in mano la situazione del comune. Lui diventò sindaco per 3 anni, lavorò per i problemi dell'alimentazione della nona e dei sussidi. Questa politica gli procurò qualche nemicizia, infatti dopo 3 anni fu allontanato. Ma vediamo in breve sintesi che cosa fu Turi. Turi si attivò quando ci furono i propoghi del 1917, dopo Caporetto, ebbe 85 morti, ebbe 60-70 periti, per l'epoca furono parecchi, ma gli anni più duri furono il 17-18 quando i morti furono 50, mentre i primi sei mesi di guerra nel 15 furono appena di, appena, furono parecchi 16. Ecco, e poi il patto annonario, si misero dei calmieri, ma i calmieri non calmavano niente perché ci furono degli imboscamenti e pertanto il sindaco si attivò, ma il problema principale fu che il problema amministrativo, la lite nel comune comportò anche disagi per la popolazione. Io farò questa comunicazione più completa, così potete leggerla. Tenete presente che in pochi minuti non si poteva di più di dire che Turi, al pari di tanti migliaia di comuni, ebbe morti, però chi combatte la vera battaglia con i contattini. Grazie. Grazie a Sabino, questo breve ma sempre importante contributo, e chiamo qui a fianco a me il primo relatore di questa sessione, il primo relatore in programma, anche se il secondo, il professor Alberto Basciani, eccolo qui, che presenterà un contributo dal titolo l'Adriatico degli Asburgo, realtà e obiettivi dell'Austria, Ungheria, scusate, in Adriatico tra Prima Novecento e Grande Guerra. Do subito la parola a lui per non sprecare tempo preziosissimo. Grazie Osario. Buonasera a tutti, quindi dalla Prima Guerra Mondiale adesso torniamo un po' indietro, negli anni appunto che, nei decenni che precedettero la guerra. Ora, nell'immaginario collettivo, anche di molti colti lettori di storia, le vicende degli Asburgo, e quindi dopo il 1867, più correttamente, dell'Austria-Ungheria, sono legate alle regioni centrali d'Europa, la Stiria, la Moravia, la Galizia, la Transilvania, ai grandi fiumi come il Danubio, la Morava, alle catene montuose come i Carpazzi, a queste città barocche come Praga o altre città come Budapest. L'Adriatico pare quasi non avere diritto di esistenza in questo contesto. Eppure, all'indomani del Trattato di Campoformio, dell'ottobre del 1797, e soprattutto dopo la definitiva sconfitta di Napoleone Bonaparte, l'Austria, entrando in possesso di Venezia e dei domini adriatici della Serenissima, possiamo dire che era diventata anch'essa una potenza adriatica. Anzi, in considerazione della debolezza degli stati italiani preunitari, della sempre più accentuata decadenza dell'impero ottomano, di fatto l'Austria era diventata la potenza dominante in Adriatico. Come vedremo ben presto, l'Adriatico però divenne anche lo specchio delle contraddizioni di questo grande impero, che come scrisse una volta lo storico inglese Taylor, si estendeva in maniera del tutto disordinata dalla Svizzera fino alla Turchia e che comunque fu in grado di sopravvivere, nonostante una serie di tensioni interne, fino alla fine del 1918, la stregua di potenze in apparenza molto più quotate. Indubbiamente, nonostante la pur comprensibile vulgata risorgimentale italiana, nei domini degli Asburgo la nazionalità italiana era tra quelle dominanti, fondamentalmente gli storici li dividono tra quelle dominanti e quelle non dominanti, quella italiana è considerata una delle nazionalità dominanti dell'impero e questo è ancora più vero se allontanandoci dalla pianura padana ci spostiamo verso il mare. L'avvicendamento tra il dominio veneziano e quello austriaco in Dalmazia ma anche in Istria fu vissuto tra l'altro come tutt'altro come un dramma dalle classi abbienti e nobiliari italiane di quei luoghi, al contrario l'arrivo di un dominio forte come quello di Vienna parve una buona garanzia di continuità, forse migliore di quanto avrebbe potuto fare l'ormai claudicante dominio veneziano. Per le famiglie patrizie e imprenditoriali italiane della Dalmazia e dell'Istria, sia pur con qualche riserva, l'avvento del dominio asburgico sembrò indicare l'avvio di una nuova fase di espansione economica. L'Austria, contemporaneamente potenza italiana, adriatica e balcanica, avrebbe potuto rilanciare il ruolo di ponte del litorale d'Almata tra Occidente e Oriente. Sappiamo tuttavia che si trattò di una illusione destinata a durare soltanto lo spazio di qualche anno. Gli assetti politici, economici e fin anche gli aspetti culturali dell'Europa variavano molto più velocemente e molto più in profondità di quanto le puragili e determinate borghesia locali potessero star loro dietro. Se da un lato la sconfitta navale di Lissa non solo rappresentò una bruciante umiliazione per il giovane regno d'Italia da un lato, però dall'altro sembrò mettere in chiaro da parte di Vienna come nonostante tutto l'Adriatico restava un mare asburgico. Eppure non era così o quantomeno l'Italia dopo essersi leccata le ferite di questa sfortunata, almeno dal punto di vista dei risultati bellici, guerra di indipendenza, diede subito a intendere come proprio l'Adriatico dovesse essere una delle direttrici della politica estera di Roma e del resto non poteva essere altrimenti. E infatti le vittorie terrestre e navali ottenute dall'Austria contro l'Italia non evitarono la generale sconfitta austriaca in guerra con le conseguenze all'interno dell'impero che insomma conosciamo bene, a cominciare con la perdita del Veneto e poi altre ancora. Altre importanti ripercussioni produsse quella che gli storici chiamano la seconda crisi d'Oriente che si originò in Bosnia e Herzegovina nel 1875 e poi terminò con il congresso di Berlino del 1878 ebbe molte ripercussioni in tutto il bacino Adriatico e anche sui domini diretti dell'Austria. Allo stesso tempo la battaglia di Liss dunque, aspettate che ho perso, dunque quello che è importante è che la battaglia di Liss per gli equilibri in Adriatico orientale ha rappresentato secondo gli storici un punto di non ritorno, una vera e propria frattura culturale adriatica. La pluralizzazione tra gli italiani e gli slavi non avrebbe fatto altro che aumentare negli anni seguenti in tutte le città della Dalmazia e in tutte le città dell'Istria e sarebbe aumentata anche nel corso del Novecento. Certamente fino alla prima guerra mondiale la comunità italiana Giuliano Dalmata avrebbe conosciuto momenti anche di grossa espansione, anche momenti se vogliamo esaltanti, ma nel compresso per una serie di ragioni politiche, economiche, sociali e anche demografiche che qui naturalmente non possiamo approfondire, l'italianità fu costretta a un progressivo ridimensionamento. Da quel momento, come ha scritto qualcuno, si trattò da parte italiana di una battaglia ritirata, una battaglia di retoguardia lenta, tenace, in cui però il terreno veniva ceduto, sia pur con molta resistenza. Di fatto, i decenni che separano lo scoppio della prima guerra mondiale rappresentarono per il bacino adriatico un'epoca di fortissimo confronto, giocato su più piani. Le città e i territori estriani e dalmati videro la crescita esponenziale di un conflitto etnico-politico importante e dall'altro lato videro anche la crescita di una competizione molto molto forte tra l'Austria-Ungheria e l'Italia, nonostante la formale alleanza politico-militare che univa i due paesi. Un conflitto che non era soltanto politico, ma appunto, come ho detto, anche diplomatico-commerciale che aveva nel Montenegro e in Albania due punti essenziali di scontro. Ben lungi dal sistemare le cose, la conquista della Bosnia-Herzegovina da parte dell'Austria nel 1877, le complicò e solo in apparenza la conquista di questa regione aveva rinsaldato la posizione della duplice monarchia sul versante balcanico-atriatico. Le incursioni italiane oltre adriatico, per esempio la nascita della compagnia di Antivari, la fondazione di scuole in Albania, la fondazione di un network di sedi diplomatiche, vennero vissute dalle classi dirigenti austro-ungariche come un vero e proprio affronto. Anzi, vennero vissute come una vera e propria molesta intrusione su un quadrante geopolitico considerato peculiare e legittima sfera di influenza dell'Aquila bicipite. Da questo punto di vista il confronto sembrò progressivamente spostarsi sulle coste dell'Albania. La città portuale di Valona che pareva rappresentare per la potenza che l'avesse occupato la garanzia di poter controllare l'Adriatico da origine e che secondo molti osservatori dell'epoca, come ci ha ricordato anche il grande storico dell'impero austro-ungarico Arthur May rappresentava l'equivalente della posizione di Calais nei riguardi della Dover italiana, cioè il porto di Brindisi. Mi pare che qualche studio abbia cominciato finalmente a mettere nel giusto rilievo quello che giustamente qualcuno ha considerato l'essessione di Valona da parte dell'Ausse-Ungheria, sempre più invischiata nelle contraddizioni di una politica frenetica tanto sul versante balcanico che su quello atriatico, in cui l'aggressività nascondeva però anche una certa povertà nelle soluzioni di volta in volta sperimentate. Per i vertici politici, militari austro-ungarici, l'eventualità di una penetrazione italiana in Albania e ancora di più la conquista di Valona era qualcosa, era un'eventualità che andava scongiurata ad ogni costo. Nel caso tale incubo si fosse avverato, questo avrebbe significato che per la prima volta nei tempi dell'impero romano una potenza sarebbe stata in grado di controllare i due punti d'ingresso dell'atriatico con conseguenze nefaste per le capacità di azione, per esempio della navigazione austriaca. Senza contare poi i riflessi economici che ciò avrebbe significato, che in caso di guerra e col trascorrere degli anni, una guerra tra Roma e Vienna nonostante l'alleanza sembrava sempre più probabile, solo con gravi rischi l'imperial reggia marina avrebbe potuto cercare di rompere il blocco per inoltrarsi nel Mediterraneo. Ne appariva ipotesi meno allarmante i guai che gli italiani avrebbero potuto portare nel cuore dei Balcani attraverso una rete ferroviaria costruita ad hoc. Furono queste quindi le premesse politiche più importanti per far sì che la duplice monarchia agisse febbrilmente sul versante adriatico per cercare di ricacciare indietro le ambizioni del giovane regno d'Italia. Nell'ottica di Vienna l'esclusione dell'Italia dalle sponde orientali all'atriatico era diventata una questione di cruciale importanza. Talassioma non era confinato soltanto nelle ovattate stanze della corte, del governo, dell'esercito ma veniva rilanciato con grandi enfasi anche dalla stampa, anche tra influenti circoli culturali ed economici. Dunque a dispetto delle grandiose manovre che si svolgevano in tutte le province ma penso in quelle centrali dell'impero, dei legami sempre più stretti della Germania, delle relazioni sempre più tese con la Russia e dal 1903 la situazione di virtuale guerra fredda con la Serbia, l'atriatico era diventato un settore decisivo per lo sviluppo della potenza austro-ungatica dove, è bene ribadire, l'incognita rappresentata dal futuro dell'Albania divenne una delle sfide principali cui la diplomazia austro-ungatica fu chiamata a dare una risposta. Nell'ottica di Vienna la soluzione ideale, almeno per alcuni anni, sarebbe stata la sopravvivenza del dominio ottomano, tuttavia la situazione di endemica anarchia che ormai avviluppava i vilayet, cioè le province albanesi dell'impero ottomano, per non parlare dei bellicosi piani di espansione delle potenze balcaniche locali, della Serbia, della Bulgaria eccetera, rendeva questo processo piuttosto irrealistico e dunque finse l'Austria-Ungheria a cercare una difficile intesa con l'Italia sul futuro albanese, mentre allo stesso tempo tentava di mantenere un occhio vigile sui sempre più vasti progetti di espansione economica e commerciale che nel frattempo Roma aveva imbastito per esempio nel vicino Montenegro. Insomma nonostante l'ottimismo che ancora nel 1904 Goluchowski, questo grande premier austro-ungarico, metteva in mostra, la realtà era che gli interessi italiani e austro-ungarici erano del tutto inconciliabili e proprio l'atriatico sia quello orientale che quello meridionale erano lo specchio di questo difficile tornante della politica austriaca. Le azioni in Albania e Montenegro non erano fine a se stesse ma rappresentavano le promettenti basi di un'ulteriore espansione progettata dall'Italia nei Balcani e di fatto nel corso del mandato del ministro degli esteri italiano Tommaso Tittoni, l'Italia riprendendo un vecchio piano del ministro Prinetti ripresa ad agire con vemenza con il resto per esempio degli stati balcanici cercando accordi con la Serbia, con la visita tra il re di Grecia e Vittorio Emanuele III che non lasciò per niente indifferente Vienna. Quella che a Vienna era definita l'ossessione italiana ad essere dappertutto, a cercare di contare dappertutto rischiava di compromettere o quantomeno rischiava di complicare l'azione adriatico-balcanica della duplice monarchia che temeva dopo la perdita dell'influenza sulla Serbia di patire un altrettanto grave smacco anche in Montenegro. Nel 1906 l'ambasciatore tedesco a Vienna scrisse un rapporto estremamente preoccupato sulla situazione interna dell'alleato e disse che l'unica cosa che sembrava mettere d'accordo tutti a Vienna era la necessità di una guerra contro l'Italia e lui scrisse soltanto una guerra contro l'Italia sarebbe veramente popolare nella monarchia asburgica. A dire il velo una certa ridazione nei confronti dell'Italia manifestava anche il Kaiser Guglielmo II che accusava appunto l'Italia di intorbitare le acque della politica internazionale e di aver inventato in maniera del tutto strumentale la questione albanese. Proprio la presenza di un intreccio così difficile da districare fece sì che le elite viennesi cercassero di tenere su due piani separati, su due piani completamente distinti, la competizione in atriatico meridionale con l'Italia e l'accentuarsi in Istria, Dalmazia e Venezia Giulia delle tensioni di natura etnica e nazionale. Anzi nell'ottica di Vienna sarebbe stato decisivo evitare a ogni modo che queste due questioni convergersero diventando una potente arma nelle mani degli infidi alleati italiani. Non era certo una questione da poco conto e gli studi decisivi di Luciano Monsali hanno messo in evidenza come il costante arretramento dell'italianità per esempio in tutto il territorio della Dalmazia fosse stato prima ancora che un processo demografico sociale un fenomeno eminentemente politico che poi sarebbe giunto a piena maturazione, a pieno compimento soltanto nel corso degli anni tra le due guerre mondiali. Diversamente andarono le cose in Istria dove una serie di fattori permissero alla comunità italiana di mantenere una posizione di primo piano al prezzo però di uno scontro sempre più violento con i movimenti che si facevano portavoce delle istanze delle popolazioni slave. Come emerge bene dalla ricostruzione che pochi anni fa ci ha consegnato un altro grande storico dell'Adriatico cioè Egidio Ivetic, Vienna cercava disperatamente di manovrare per arrivare a una soluzione di compromesso tra i partiti italiani e quelli slavi con risultati però non sempre ottimi anzi con risultati spesso discutibili. Alla vigilia della prima guerra mondiale anche in Istria si viveva una situazione di forte polarizzazione politica caratterizzata da una controposizione ormai insanabile direi quasi violenta tra le istanze dei partiti italiani e quelle dei partiti slavi. La politica internazionale non restava certo esclusa da questi giochi politici. Le terre a est di Venezia restavano sempre una delle terre redente da ricondurre prima o poi entro i confini della madrepatria e in particolare dalla fine del XIX secolo e negli anni seguenti l'interventismo di Roma non fece altro che aumentare sia pur mascherato ma in realtà neppure troppo mascherato sotto le vesti dell'azione della società Dante Alighieri. A differenza del passato però questa volta Vienna si mosse con maggior prudenza quasi direi con circospezione. Nell'atriatico orientale l'irriquidezza italiana era un problema secondario rispetto ormai al vigore, alla virulenza assunta dal movimento slato che ormai percorreva nuove e per Vienna molto preoccupanti strade quali per esempio un legame sempre più stretto con il nazionalismo serbo e quindi con lo yugoslavismo. Dunque non era il caso per l'impero austro-ungarico di esasperare ulteriormente il confronto con il già difficile alleato italiano e di allargarlo su nuovi fronti. Vale la pena di ricordare come dal punto di vista economico questi anni in Adriatico vedevano una competizione serrata tra l'Italia e l'Austria-Ungheria. La nascita come si è accennata in precedenza della compagnia di Antivari con la penetrazione economica italiana in Montenegro, l'accentuazione della presenza italiana in Albania e dopo il 1908 il tentativo di Roma di coordinarsi con la Russia nelle vicende balcaniche rappresentavano ormai dei segnali molto molto chiari. Per la politica estera italiana lo spazio Adriatico, il progetto sia pur utopico della rinascita di un sinus veneticus era diventato uno degli obiettivi dell'azione esterna di Roma e della sua ricerca di affermazione quale grande potenza nel concerto delle nazioni. Proprio la crisi balcanica del 1908 segna fino allo scoppio della prima guerra mondiale se non la unica certamente uno degli snodi decisivi dei rapporti italo-austriaci. È molto conosciuto il discorso alla camera dell'ex presidente del consiglio italiano Fortis che affermò che l'Italia era tranquilla e l'unica cosa che doveva temere era una guerra contro il suo alleato e chiaramente pur non nominandolo pensava alla Russia Ungheria. A Vienna si viveva una situazione del tutto simile, gli atteggiamenti non erano troppo differenti tra le classi dirigenti appunto della capitale. Conosciamo bene le considerazioni del capo di stato maggiore dell'esercito austro-ungarico Conrad von Hotsendorf che auspicava assieme a una guerra preventiva con la Serbia un'altra guerra preventiva contro l'Italia. Ma in realtà i sentimenti italofobi di Conrad erano esemplari di una anti-italianità ben diffusa in tutta la duplice monarchia. E in quest'ottica ci appare significativa la decisa politica di riarmo navale promossa proprio all'inizio del novecento della duplice monarchia sotto la supervisione e l'incidimento al trono dell'erede al trono appunto Francesco Ferdinando il quale nel 1913 fu nominato ispettore generale della marina da guerra dell'Austria Ungheria. Non si trattava più soltanto quindi di mettere mano al rafforzamento delle difese costiere, di rinsaldare le vecchie navi da guerra ma di costruire un'autonoma, moderna e aggressiva forza d'assalto marina. Qualcuno ha scritto che l'erede al trono Francesco Ferdinando mostrava con la divisa d'ammiraglio più consapevolezza e più capacità di quando ne mostrasse con la feluca da politico. In questo caso la diffidenza nutrita nei confronti degli italiani costituì un pungolo importante per superare le resistenze degli ambienti finanziari, politici e anche da parte della Corte per promuovere appunto un deciso programma di riarmo navale. Nel 1909 superando le resistenze di Arendtal fu dato un nuovo impulso al rafforzamento della flotta da guerra austriaca che prevedeva la messa in servizio di ben quattro corazzate nei prossimi quattro anni e addirittura le prime due super corazzate, la Viribus Unitis e la Dekenthof furono impostate prima ancora che il Parlamento stanziasse i relativi fondi. Questa svolta militare ebbe un significativo riflesso anche su una parte della società dell'impero, per esempio questi furono gli anni in cui si diffuse in tutta l'Austria e Ungheria la moda marinara ma ancora più significativa moltissimi giovani si iscrissero all'associazione per la flotta austriaca fondata appunto nel 1904 che aveva una forte impronta antitaliana. Naturalmente ancora più importanti furono le conseguenze politiche, dal 1904 la marina da guerra austro-ungarica era uscita dal cono d'ombra ed era diventata uno strumento della politica estera della duplice monarchia, in tale contesto va senz'altro inquadrato la competizione navale con l'Italia, del resto gli austriaci fecero di tutto per far comprendere agli irritati britannici che le ragioni del loro riarmo non erano rivolte contro la Gran Bretagna ma andavano viste esclusivamente nel quadro della competizione imbastita con l'Italia e per impedire che l'Adriatico potesse diventare quel Mare Nostrum che i nazionalisti di Roma invece tanto ormai reclamavano. Nel 1914 alla vigilia della guerra il divario tra le due marine militari si era notevolmente accorciato e l'Ausse-Ungheria aveva decisamente sostituito la Francia come primo competitor della regia marina. Per Vienna la tregua offerta in basso Adriatico nei Balcani dalla politica del nuovo ministro degli estri italiano di San Giuliano fu solo temporanea e comunque meglio sarebbe stato non abbassare mai la guardia nei confronti dell'Italia anche perché nel frattempo tutta la regione era sconvolta da una serie di avvenimenti che pensiamo appunto alla situazione in Macedonia, in Albania, agli accordi italo-russi di Racconigi eccetera. Insomma l'Italia era diventato uno dei principali, un leitmotiv ossessivo per la politica estera dell'Ausse-Ungheria e il fatto che a un certo punto l'Italia si fosse distratta dall'Adriatico per guardare più al Nord Africa non lasciava dormire sonni tranquilli. Tutti sapevano che prima o poi una serie di spinte politiche sia interne che estere avrebbero di nuovo portato l'Italia a rientersarsi all'Adriatico. Quindi l'eredentismo italiano complicava oltremisura la complicata questione nazionale nelle province adriatiche dell'impero e costituiva un pungolo costante, una preoccupazione costante per la Russia-Ungheria. Comunque sappiamo che come nonostante il bellicoso piano di riarmo navale, alla vigilia della guerra, tuttavia l'Ausse-Ungheria mostrando alcune delle debolezze tipiche che sarebbero emerse negli anni del conflitto non aveva ancora predisposto un vero e proprio piano di guerra marittimo né si era attrezzata per condurre eventuali operazioni fuori dal golfo di Taranto né anche in questo caso era venuta meno una certa maledizione balcanica che continuava a perseguitare l'Austria-Ungheria. Ricordiamo soltanto come una delle più munite basi navali austro-ungariche, quella di Cattaro, viveva però sotto l'incubo di essere posta sotto la minaccia delle artiglierie montenegrine che dominavano questa base dal monte Lovchen. Mi avvio verso la conclusione dicendo che la minaccia che pareva incombere su una delle basi navali più importanti della duplice monarchia sembrava ricalcare lo sconcerto austro-ungarico per la trasformazione indotta dall'esito delle guerre balcaniche. Il perno austriaco nei Balcani, cioè la Bulgaria, era uscita dalle guerre del 12-13 con le ossa rotte mentre trionfava il nazionalismo serbo. Chi davvero poteva pensare seriamente che non ci sarebbero stati altri scossoni, che la Serbia e il suo sponsor russo si sarebbero accontentati e l'Italia sarebbe rimasta a guardare passiva negli anni seguenti. L'atriatico era inquieto, però è anche vero che in questa fase con l'Italia ancora intenta a digerire il boccone libico, a sconvolgere la tranquillità austriaca era soprattutto il pericolo rappresentato dalla montante Marea Slava. Sappiamo bene, anzi, come per un momento Roma e Vienna parvero ricompattarsi e fare fronte comune nella decisione di creare lo Stato albanese indipendente che sorse praticamente dal nulla, se non ispirato dalla necessità di questi due strani alleati della triplice per impedire alla Serbia di ottenere lo sbocco in Adriatico. Per un momento la convergenza di interessi italo-austriaca, non si dimentichi ad esempio l'enorme eco suscitata ad esempio in Dalmazia dalle vittorie militari serbe del 1912 e il 1913, sembrano in grado di arginare le ambizioni di Belgrado e di tenere le nazioni slave ancora fuori dell'Adriatico. Di certo la spettacolare esibizione di forza messa in atto in Basso Adriatico e in Egeo verso le coste albanese montenegrine dalla flotta da guerra austro-ungarica nel pieno delle guerre balcaniche non parve però avere effetti dissuasivi così immediati nei confronti degli arrembanti alleati balcanici e in particolare appunto nei confronti della Serbia e del Montenegro. Come era successo in precedenti occasioni, anche in questa la coincidenza italo-austriaca fu solo momentanea, destinata a durare una manciata di mesi, fino alla crisi politica del giugno-luglio 1914. Le iniziative di Vienna, seguite al duplice omicidio di Sarajevo, palestemente in contrasto con il dettato della Tribice, permise dal governo italiano di separare i suoi destini, questa volta veramente in maniera definitiva, da quelli di Vienna. A questo punto forse si può dire che la questione triatica di per sé era ormai superata. L'Austria-Ungheria si era illusa di poter isolare e punire con la guerra la Serbia risolvendo con una passeggiata militare anche il problema sud-slavo della monarchia, dimenticando però gli insegnamenti del cancelliere Badeni che soltanto qualche decennio prima aveva scritto che un organismo così peculiare e così delicato come l'Austria-Ungheria la guerra avrebbe potuto avere effetti disastrosi per la sopravvivenza stessa dell'impero. L'Adriatico dell'Ungheria quindi era spettatore circospetto dell'ultima grande sfida militare degli Asburgo in attesa dello scontro ormai questo anche sì anche davvero inevitabile con l'ex alleato italiano. Grazie. Ringraziamo Alberto Basciani, il professor Alberto Basciani che prima ho dimenticato di presentare, il professor di Roma 3, storia dell'Europa orientale, quindi ringraziamo perché si è un po' esteso rispetto ai suoi ambiti di ricerca per aiutarci in questa importante introduzione a quello che è il tema della grande guerra. Cedo adesso la parola al collega e amico il professor Federico Imperato che ci fornirà un contributo dal titolo l'Italia e il Golgotha serbo, le relazioni tra Roma e Belgrado nella grande guerra. Buonasera a tutti, faccio immediatamente i miei ringraziamenti alla fondazione di Vagno, a Gianvito Mastroleo, a Filippo Giannuzzi anche per il passaggio in macchina fin qui. Io mi sofferò sulle relazioni tra Italia e Serbia nella prima guerra mondiale, in particolare in questo episodio forse ancora poco conosciuto del Golgotha serbo, cioè di questa ritirata dei profughi militari e civili serbi attraverso le montagne dell'Albania fino alle coste albanesi in seguito all'invasione della Serbia da parte degli eserciti austro-ungarico, tedesco e bulgaro, cominciato nell'ottobre del 1915. Naturalmente una relazione di questo tipo non può che iniziare da una data, cioè quella del 28 giugno 1914, dell'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono dell'impero austro-ungarico e di sua moglie, avvenuto a Sarajevo per mano di un cospiratore bosniaco, Gavrilo Princip, che però era parte di una congiura nata, diciamo, concepita proprio in Serbia. Questo episodio naturalmente fu poi la scintilla che fece detonare la grande guerra, un conflitto in mano che sconvolse l'Europa e non solo per più di quattro anni, ma immediatamente fu vista come l'occasione che aveva l'Austria-Ungheria per regolare definitivamente i conti con la Serbia e ridurla a stato vassallo dell'impero. Negli anni immediatamente precedenti al conflitto, infatti, la Serbia si era ingrandita notevolmente da un punto di vista territoriale dopo le due guerre balcaniche del 1912 e 1913. A quel punto lo stato slavo poteva aspirare sia a fare da antemurale a una possibile espansione proprio dell'Austria-Ungheria nei Balcani, sia a diventare, a porsi elemento di coagulo delle nazionalità slave del sud, svolgendo un ruolo, diciamo, analogo, simile a quello che aveva svolto il Piemonte per l'Italia nel XIX secolo. La Serbia aveva, diciamo, conquistato l'indipendenza già da diversi decenni e tuttavia non aveva ancora uno sbocco sull'Adriatico impeditole tra l'altro dall'annessione della Bosnia-Herzegovina all'Austria-Ungheria avvenuta appunto dopo la crisi bosniaca del 1908. Quindi appunto questo scontro tra Austria-Ungheria e Serbia fece da detonatore alla Prima Guerra Mondiale. Già un mese dopo, esattamente un mese dopo, infatti, l'assassinio di Sarajevo, il 28 luglio 1914, Vienna dichiarò guerra a Belgrado e questo portò naturalmente poi a far entrare nel conflitto anche le altre potenze europee con l'esclusione temporanea, diciamo, dell'Italia. Per quanto riguarda le relazioni tra la Serbia e le potenze dell'intesa, Francia, Gran Bretagna e Russia, nella prima fase del conflitto, furono delle relazioni, diciamo, altalenanti, segnate, diciamo, da diversi elementi di contrasto e di malinteso. L'elemento principale di questa ambiguità nelle relazioni furono proprio le trattative che poi portarono l'Italia ad entrare nel conflitto a fianco dell'intesa, quindi capovolgendo le sue alleanze precedenti con gli imperi centrali, Austria-Ungheria e Germania, cosa che avvenne, diciamo, da un punto di vista sostanziale con la firma del patto di Londra del 26 aprile 1915, un patto segreto che praticamente assegnava all'Italia vasti ingrandimenti territoriali sulla sponda orientale dell'Adriatico, quindi l'Italia praticamente sarebbe diventata, secondo i punti di questo patto, la potenza egemone in Adriatico e ciò naturalmente andava poi a confliggere con quelli che erano gli interessi della Serbia. Tra Italia e Serbia quindi c'era un rapporto complicato, fatto di scarsa fiducia, di malintesi, di tensioni reciproche, dettate forse da una scarsa conoscenza anche reciproca. Il governo italiano quando firmò il patto di Londra non aveva una conoscenza esatta, ad esempio, dello jugoslavismo che appunto era sostenuto dal governo serbo di Nicola Pacic ma anche da diversi fuoriusciti slaviche, tra cui ad esempio, ricordo, Frano Supilo e altri. Da un punto di vista serbo invece il governo di Belgrado non aveva una conoscenza esatta dei termini in cui era stato firmato il patto di Londra, un patto che come ho detto metteva in contrasto questi due stati su due questioni fondamentali, quello della Dalmazia e quello della Croazia, mentre però in merito alla Dalmazia forse si sarebbe potuti arrivare ad un compromesso perché il patto di Londra assegnava all'Italia praticamente circa metà del territorio continentale d'Almata comprese le città di Zara e Sebenico e in più la fascia costiera fino a Capoplanca e le isole diciamo prospicenti al litorale ma la parte restante del litorale d'Almata, quindi da Capoplanca fino al confine con Montenegro era stato stabilito insomma che sarebbe stato neutralizzato e poi diviso eventualmente tra Serbia, Montenegro e eventualmente anche la Croazia. Pochi spunti invece di compromesso esistevano intorno alla Croazia perché? Perché l'unione serbo-croata era diciamo l'elemento fondamentale, la condizione necessaria dello jugoslavismo, però se questo si fosse realizzata sarebbe scoppiata come poi sarebbe scoppiata la questione di fiume, cioè di una città che era abitata da una popolazione prevalentemente italiana che l'Italia non aveva chiesto durante le trattative per la firma del patto di Londra e che però il governo di Roma voleva evitare che andasse in mano alla Serbia o di uno stato che raggruppasse appunto le nazionalità slave del sud. Allo stesso modo anche le altre potenze dell'intesa giocarono un po' su questa ambiguità e su questi fattori di malinteso, Francia e Gran Bretagna soprattutto seguirono la stessa linea che avevano seguito con l'Italia anche per Bulgaria e Romania cioè cercavano di portarle dalla loro parte promettendo loro acquisizioni territoriali a scapito della Serbia in particolare ciò che la Serbia aveva ottenuto durante le due guerre balcaniche quindi la Macedonia sarebbe tornata alla Bulgaria, il Banato alla Romania in cambio la Serbia avrebbe dovuto espandersi a scapito dell'impero asburgico quindi in Bosnia e Herzegovina o in Croazia. Allo stesso modo la Russia che cercò in ogni modo diciamo di impedire la conclusione del patto di Londra e che fomentava la propaganda italofoba all'interno dell'opinione pubblica serba. La conseguenza militare di questi malintesi fu una mancata collaborazione tra gli eserciti italiano e serbo dopo la dichiarazione di guerra dell'Italia avvenuta il 24 maggio 1915. La pressione contemporanea dell'esercito italiano sul fronte dell'Isonzo e dell'esercito serbo sul confine comune con l'Austria-Ungheria avrebbe dovuto mettere in grave difficoltà l'esercito imperiale. Tuttavia questa duplice pressione non ci fu perché l'esercito serbo rimase sulla difensiva per cattiva volontà da parte appunto del governo serbo secondo il governo italiano in realtà perché la Serbia cominciava già a vivere un momento difficile al suo interno che poi l'avrebbe portato appunto al Golgota cioè al crollo quasi completo delle istituzioni infatti all'interno della Serbia si stavano diffondendo insomma diverse epidemie di tifo, di vagliolo, di colera e una vivida descrizione appunto della situazione interna serba nella primavera del 1915 ce la fornisce un giornalista americano famoso John Reed che appunto si recò nel paese slavo proprio nella primavera del 1915 lasciandoci appunto questi reportage che poi sono stati raccolti anche in un volume che è stato tradotto anche in italiano nella seconda metà degli anni 90 del novecento. arriviamo appunto alla dissoluzione del compagine statale serba proprio in seguito alla duplice offensiva quasi simultanea 5 e 11 ottobre 1915 da parte appunto degli eserciti austro-ungarico e tedesco da una parte e di quello bulgaro dall'altro dall'altra. Abbiamo, è molto interessante, sono molto interessanti le corrispondenze diplomatiche tra il ministro italiano presso il governo serbo Nicola Squitti e il ministro degli esteri Sonnino perché ci fa proprio capire insomma la situazione di precarietà che viveva giornalmente il governo e la popolazione serba. Il governo serbo era costretto a spostarsi continuamente di città in città per evitare appunto di incrociare gli eserciti invasori. Già all'inizio della guerra il governo fu spostato da Belgrado a Nisce questo paesone di montagna era diventato improvvisamente una città di più di centomila abitanti ma alla fine di ottobre ci fu un nuovo spostamento da Nisce a Kralievo, il 5 novembre Nisce finì nelle mani dei bulgari e questo consentì a tedeschi e austriaci di assumere un controllo pieno del tratto di ferrovia che collegava Berlino a Baghdad il tratto che appunto attraversava la Serbia. Per cui da quel momento gli imperi centrali avevano un collegamento diretto con Costantinopoli quindi con l'altro impero appunto che combatteva al loro fianco contro l'intesa. Poi insomma da Kralievo a Mitrovic a Monastir l'attuale cittadina di Bitola in Macedonia in un viaggio anche molto pericoloso che doveva attraversare una parte di territorio albanese allora in pieno caos. Quindi a questo punto iniziò l'esodo appunto dei soldati ma anche dei civili serbi circa 200.000 che affrontarono appunto un viaggio di circa tre settimane attraverso le montagne dell'Albania su un terreno impervio affrontando anche altri pericoli come la fame, le privazioni, le malattie insomma in quella che è conosciuta in Serbia come il Golgotha, un vero e proprio calvario e che anche uno storico britannico Martin Gilbert ha definito una vera e propria epopea di dolore. I serbi giunsero in Albania, i primi reparti dell'esercito serbo giunsero in Albania il 25 novembre del 1915 tre giorni dopo giunse a Scutari una cittadina dell'Albania settentrionale anche il re Pietro I, la corte, la famiglia reale, il governo serbo e lo stato maggiore delle forze armate serbi. A quel punto cominciò una vasta operazione di rifornimento, soccorso e salvataggio messo in atto dalle marine dell'intesa che durò diversi mesi fino alla primavera del 1916 che coinvolse diverse unità navali, un apparato complesso al punto che fu necessaria l'istituzione di una vera e propria commissione che doveva coordinare queste operazioni di soccorso, una commissione guidata dall'ammiraglio Pino Pini che era sotto capo di stato maggiore della regia marina e che era composta anche dagli addetti navali francese, britannico, russo e serbo e dai delegati dei ministeri della guerra e della marina italiani. Queste operazioni avvenivano grossomodo in questo modo, i profughi serbi venivano convogliati nei principali porti albanesi da nord a sud, San Giovanni di Medua, Durazzo e Valona e da lì poi venivano recuperati. In realtà il primo problema che i governi dell'intesa dovettero affrontare era proprio quello di capire dove portare questi profughi. Sonnino voleva che fossero riorganizzati, stiamo parlando naturalmente delle truppe dell'esercito, sul territorio albanese e poi mandati di nuovo a combattere contro austriaci e bulgari. Però l'importante era che questi profughi non giungessero a Valona, nell'Albania meridionale, quindi che non superassero un confine che era determinato dal fiume Shkumbini e dalla linea che univa, diciamo idealmente, le città di Pechin e Tirana. Perché? Per ragioni di ordine pubblico, perché non si voleva fare entrare in contatto serbi-albanesi, data la rivalità che li contraddistingueva, ma anche perché Sonnino temeva che, una volta stabilitisi in Albania, a Valona in particolare, i soldati serbi non se ne sarebbero più andati e naturalmente l'Italia aveva forti interessi sul porto dell'Albania meridionale, su Valona, lo aveva già occupato militarmente e naturalmente quell'avamposto permetteva all'Italia di avere un controllo completo delle due sponde del canale d'Otranto, quindi della bocca d'accesso all'Adriatico o al Mediterraneo. Alla fine la soluzione fu quella proposta dal governo francese, cioè di portare questi profughi, in particolare i soldati, nell'isola greca di Corfu, non prima di averla occupata militarmente. I malati, i feriti invece, venivano trasportati soprattutto nei porti francesi di Biserta, in Tunisia, Bastia e Marsiglia, mentre i prigionieri di guerra austriaci, circa 30.000 che i serbi avevano portato con sé in questo esodo, tra virgolette, furono portati in vari campi di concentramento, messi in quarantena in vari campi di concentramento sul territorio italiano, in Sardegna in particolare, alla Sinara anche in Corsica. Quarantena perché tra di loro si era diffusa un'epidemia di colera. L'11 gennaio 1916, quindi, i primi reparti francesi occuparono l'isola greca di Corfu e da quel momento le operazioni di soccorso e salvataggio proseguirono in maniera più spedita. La regia marina italiana aveva messo a disposizione per queste operazioni sei piroscafi più grandi che avrebbero dovuto coprire il tratto da Valona a Corfu, mentre altre dodici unità navali più piccole coprivano il tratto interno all'Albania, quindi dai porti di San Giovanni di Medua a Valona e da Durazzo a Valona. L'ulteriore problema fu poi cosa fare dei soldati serbi. Anche qui ebbe la meglio la proposta francese che intendeva riarmarli, riorganizzarli e spedirli sul fronte di Salonico per riprendere le ostilità contro Austria-Ungheria e Bulgaria. Anche qui ci furono difficoltà logistiche notevoli perché questo viaggio avveniva una parte via mare da Corfu a Patrasso e poi via terra da Patrasso al Pireo e poi a Salonico. Il problema era che la ferrovia Patrasso-Pireo era una ferrovia che consentiva un traffico limitato, cioè consentiva il trasporto di circa mille o duemila soldati al giorno, però interrompendo qualsiasi altro traffico per un periodo di due o tre mesi. Infatti ancora nel maggio del 1916 il riarmo dei soldati serbi a Corfu era tutt'altro che pronto e i serbi giunti a Salonico a quella data non erano più di 5-6 mila uomini. Un piccolo dettaglio sulle difficili condizioni che i serbi dovessero subire anche a Corfu, nel senso che i feriti e gli ammalati non furono fatti rimanere a Corfu ma trasferiti nel vicino isolotto di Vido. E qui su Vido scoppiarono ben presto una condizione igienico-sanitaria molto precaria, si diffusero le maladie, insomma le epidemie, vi furono più di 5 mila decessi, e praticamente data la scarsa superficie dell'isola e il terreno che era quasi tutto prevalentemente roccioso, molti di questi soldati non furono seppelliti in terra ma in mare, in quella che rimane tristemente nota come l'Isola della Morte o il Cimitero Blu, da cui poi anche una poesia di un noto poeta romantico serbo, Milutin Bojic, da cui fu tratta poi anche una famosa canzone patriottica. Finisco soltanto ricordando che al ricordo delle operazioni di salvataggio dei profughi serbi esiste all'interno del porto di Brindisi una targa commemorativa marmorea che recita così dal dicembre 1915 al febbraio 1916 le navi d'Italia con 584 crociere protestero l'esodo dell'esercito serbo e con 202 viaggi trassero in salvo 115.000 dei 185.000 profughi che dall'opposta sponda tendevano la mano. Grazie. Ringrazio anche Federico Imperato, noi per motivi di tempo dobbiamo concludere qui questa nostra sessione ma prima di concludere chiedo passare il microfono al professore Netrigiani, mi importa notare che è un po' l'obiettivo di questo evento che dura due giorni qui a Conversano, la memoria della grande guerra è una memoria soprattutto di un adriatico che è un mare condiviso, è un mare di memoria condivisa dove sappiamo che esistono tragedie su entrambe le sponde di questo mare nostro e che ci importa sottolineare ancora come questa memoria e soprattutto la memoria di dolore è che non è riuscita allora come oggi a insegnare l'unica lezione possibile che è quello del ripudio della guerra. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.